Si presenta con due novità la 57esima edizione della Corsa dei Due Mari, in programma dal 7 al 13 marzo 2022, con partenza da Lido di Camaiore e tradizionale arrivo nelle Marche a San Benedetto del Tronto. Oltre a concludersi con una tappa in linea, quest'anno la gara terminerà di domenica e sarà contraddistinta da un percorso agile ma impegnativo. La competizione è stata presentata proprio oggi con una videoconferenza organizzata da RCS Sport, da Palazzo Limadù della Regione Marche. È un evento importantissimo per la nostra regione che attraverso il ciclismo, quindi attraverso lo sport, fa conoscere anche le bellezze del nostro territorio. A partire anche dall'entroterra, mette anche in evidenza le bellezze dei nostri borghi, perché la Tirreno Adriatica attraverserà Sefro, anche Carpegna, Apecchio, che sono dei piccoli borghi, fino ad arrivare, come da tradizione, a San Benedetto. Quindi noi attraverso lo sport promuoviamo la nostra regione, ma lo abbiamo già dimostrato, scegliendo come testimonial della Regione Marche Mancini e facendo sì anche che la giornata delle Marche sia stata celebrata anche con tantissimi dei nostri atleti che sono tornati vincitori e vittoriosi, insomma, dalle loro sfide agonistiche. Quindi attraverso lo sport abbiamo affrontato anche un periodo difficile che sta attraversando tutta l'Italia, e invece attraverso lo sport guardiamo sicuramente le bellezze del nostro territorio anche con fiducia e speranza per una rinascita. Una novità assoluta, quella della chiusura della corsa di domenica e che quindi darà anche la possibilità alla Regione Marche di fare da padrona, da protagonista, perché il weekend è lungo, dal venerdì alla domenica sarà impegnato sulle trappe marchigiane. Per cui sicuramente questa è una grande novità, ma non solo per la Regione, perché sicuramente ti dà anche una prospettiva diversa alla corsa, perché fare un grande evento e chiuderlo di martedì o di mercoledì non è come chiuderlo nel weekend, sicuramente è diverso. L'altra grande novità, se grande vogliamo dire, ritorniamo un po' al passato. Meno tappe di montagna, ce ne sarà una ma non sarà l'arrivo in salita, ma sarà fatto giù sul Carpegna sotto il Cippo, sulla città, per cui non sarà veramente un arrivo in salita. Ma la novità è che torneremo a quei muri, diciamo, quelli che hanno fatto la storia di questa corsa. Quindi muri non troppo lunghi, con pendenze non, come dicono da noi, mostre, ma pendenze normali, ma con una sequenza tale, per cui rimarranno sulle gambe. E chiaramente faranno sì che la corsa potrà essersi aggiudicata anche attraverso quei piccoli abbuoni durante le tappe, che faranno maniera da tenere vicini gli atleti e per poi arrivare a San Benedetto con solo una passerella, ma potrebbe diventare anche quella una tappa decisiva per la vittoria finale, come è accaduto già nel passato. La corsa, devo dire, finalmente, da esperto e amante del ciclismo, si concluderà la domenica. Questo da un punto di vista della promozione, dell'attrattività, della possibilità di concentrare attenzione sull'ultima tappa è molto importante. Quindi arrivo in linea, non più a cronometro, a San Benedetto del Tronto. Ma la cosa importante è che nelle due ulteriori tappe marchigiane, quelle che arriveranno al Cippo del Carpegna e quella che arriverà a fermo, avremo la possibilità di mettere in campo Pogacar e Alain Philippe, il campionato del mondo. Quindi devo dire che non solo è una classicissima che risponde a degli standard di grande valore sportivo, ma in questo caso sappiamo che la scelta della regione di puntare ancora una volta sulla Tirrana Triatica è stata ulteriormente giustificata da questo sviluppo che non vede solo tante tappe nelle marche, ma anche tanti campioni e soprattutto quell'arrivo di domenica che sicuramente sarà una grande festa di ciclismo.